Giacomo Voli ha trionfato ad All Together Now la musica è cambiata, aggiudicandosi il monte premi di 100.000 euro, a cui si aggiunge la possibilità di registrare una cover con R101. Il 35enne di Correggio ha sfoderato una serie di performance strepitose, convincendo il muro e di giudici. Nel duello finale ha battuto la concorrenza del giovane e talentuoso Vincenzo Cantiello. Il premio WINDTER, dal valore di 15.000 euro, è stato invece assegnato a Michelle Pereira. Tommaso Vitale, direttore marketing dell'azienda, ha così argomentato la scelta di dare il premio alla 36enne, ha iniziato il suo percorso in salita, ha avuto problemi con il muro, ma poi ha saputo reagire. Non me lo aspettavo, grazie. Cosa farò con questi 15.000 euro? Sicuramente ci pago l'affitto, la risposta della cantante, evidentemente emozionata. All Together Now, finale, l'ultimissima sfida tra Giacomo Voli e Vincenzo Cantiello e la proposta di matrimonio. Prima del duello finale ha fatto irruzione in studio il fidanzato di Carola Campagna, che ha raggiunto la dolce metà sul palco. Ma cosa ci fai qui? Ha chiesto stupefatta e raggiante la donna. In un'amen il ragazzo si è inginocchiato ed ha sfoderato l'anello, mi vuoi sposare? Carola, felicemente scombussolata, si è portata le mani alla bocca per poi gettarsi tra le braccia del compagno. Tantissimi giudici del muro hanno versato lacrime. Anche Anna Tatangelo, Rita Pavone e i lunghi axi sono lasciati andare ad un emozionato pianto. Ci avete reso partecipi di una cosa stupenda. Guardate, io mai visto una scena del genere, stanno piangendo tutti, il commento della Hunziker. Sono contenta, non sto più nella pelle, la chiosa della campagna prima di lasciare il gioco. Nell'ultima gara Giacomo Voli ha sfoderato una magistrale samba di To Love the Queen, mentre Vincenzo Cantiello ha offerto un'eccellente performance esibendosi sulle noti di Toxic di Britney Spears. Il 35enne è salito sul gradino più alto del podio, medaglia d'argento per Vincenzo.